C'è una categoria più grande che si tratta di raggiungere sui strati di soli. Inoltre c'è una videocutmose, un'altra cosa, un'altra cosa... In questo caso, non mi sembrava in un podcast? Non. Ci sono molte cose, come metti, città, città e tre tifiche. Le tre tifiche, sono delle cose che sono in derrick cause per esempio, e delle cose che sono in bif, per esempio, per il cibo. Non riesce a fare un'ambiente di Dereck Cows con altri Biff Cows. La più famiglia di Biff Cows è la Biff Cows, che dopo il 1880 è stato detto che sono Biff Cows, se non sono un'attività più grande, non sono un'attività più grande, non sono un'attività più grande, è un'attività più grande. È un'attività. Non è un'attività, come un'attività è un'attività come più grande mentre hanno chiesto gli Gwagiu sono le Gwagiu… è vera, è il segno di Cicli del mondo. Cicli, è una cosa che è molto più grande Che non è nulla, خ다�σmi le Gwagiu. Quali sia? Are sensata? È un'attività che il giocatore? Ci sono un'attività. È quello che si chiamo sessi da facoltare. Non lo so, non lo so. Listening bar slash grill. Si, non lo so, non lo so. Si, si. Stai spolare? Stai? Stai facendo 35 leppi. Stai facendo una ora. Stai facendo 35 leppi, mentre stai facendo il lavoro, stai facendo il standard. Stai facendo 35 leppi, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so. Gliudando 20 leppi, con te facendo 30 leppi, son lo so. Stai facendo. Non lo so. Non lo so, non lo so, il caso es, in cui je me fai scopo' Grazie a tutti, grazie a tutti. perché c'è parte di lavorare, ma con i peccatori che si è venuto a vedere se se c'è qualcuno che c'è un euro che si ha orecchisato per il fai, potrei accogliare. In molti fatti del mondo, vengono a farlo. In mei mesi mesi. Alla mei, la verità, la mia giornata, la mia giornata è stata una mia giornata, con la mia gianca, e credo che era la fase di pensare che eravamo alla prossima. Sì, è vero che avevo un po' il mondo che volessero. E' stato molto il approccio. E' stato molto vero. E' stato molto vero. E' stato l'escrizione per la sua volta per il podcast. E' stato un'escrizione. E' stato un'escrizione. E' stato un'escrizione. E' stato un'escrizione. C'è un'escrizione molto l suppress�리очemente. Lo chpotvio che hai le risi sulle scelte che 따�i il rischio式o, perché ci sono verevo un loro sai Ник versatile o Rivera Nose. E' un'escrizione. Adesso in modo dappi... ...si con un modo... ...qu'è stato anche di quando ci sono i nostri spazi... ...i posti che ci sono altre idee... ...i insegno, quello che lo so... ...e questo lo so. ...e practise e noi abbiamo fatto gli altri... ...que non ho vinto mai... ...e l'acqua in questo modo... ...ma cosa stiamo in questo caso? ...Dice è il nostro tipo. E che è il tuo nome? ...che tu è la sua? Ehi, è così, ma non lo so... ora immagini non abbiamo già un po' di tempo fino a costa non abbiamo non lo luxuri così è un po' di lavorare non siamo nella fase del oxeris un po' di evitato un po' di avi, è un po' di ae come una nera, ha po' di lavoro? è la giornata scolarmente l'administro a 3.30 è una giornata da 7.30 e l' agenda è la lancina C'è il giorno in periodo, ora stanno la lancia. Nè. C'è il giorno in cui hai lavorato, è tutto il podcast che è molto difficile. Poi, la ora in cui lavoriamo, è una ora in cui fai più lontano. Non è molto difficile. Non è difficile, non è difficile. Non è difficile, non è difficile. Non è difficile, non è difficile. C'è l'inizio l'inizio. Inizio l'inizio, Inizia iniziava. E' iniziava. Era più difficile da vedevi che vedeva il giorno. Iniziava. Iniziava iniziava. Iniziava iniziava. Iniziava iniziava. Iniziava iniziava iniziava. Non è una cosa che mi piaceva. Ma è un programma. Iniziava iniziava iniziava. Iniziava iniziava. Iniziava 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 la giornata. Dopo i Очень iniziava iniziava gli ordini a 10 minajati. T间 16K Iniziava 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 a la shapesimo di hour di 때 a 5.30 che mi interessa. An süsevo iniziava 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 ora. Ma passat correte la sua negazione. Ancora ora si è arrivato al posto di young'umaniziavo iniziava iniziava for iniziava iniziova iniziava l'euro. Sono convide con pescazione di altri. Quindi, abbiamo fatto una scuola che si è iniziata. Tè l'era, in realtà, il story, perché è stato in grillo, è venuto 20 anni. Il story è l'interno dell'utero, però il official show, il soltent fire, a dire, si è iniziato nel 2018, per una volta, era solo un giorno in ogni paese. E' un giorno che era il giorno, e poi abbiamo fatto un altro, un'estima di fare il giusto, quindi abbiamo fatto un'esplosione e non sono più spiegati, non sono più spiegati, non sono più spiegati, ma sono più spiegati, ma sono più spiegati. E' un'esplosione, non è più spiegato, era più spiegato, era tutto da l'esplosione, era più spiegato. e non è così acerbato, è stato il più acerbato della sicurezza per personale di Borghese. Era un modo di più, era un modo di più obvio, era un modo di più obvio. Era un modo di riscone, però diciamo, se lo facciamo un giorno ogni giorno, se lo facciamo un giorno, se lo facciamo un giorno, se lo facciamo un giorno, señora lato roba la s disagree la ma anche questo avviso. E' un altro esempio in Gin, e' un gioco e' un gioco si usate e' un gioco mentre in un gioco e' un gioco in un gioco di un gioco e' un gioco e' un gioco e' un gioco e' un gioco che non si era Ora non è venuto reale, è stato fatto 3 mesi, si sono stato fatto una scena, si sono stato fatto con la lavoro di ogni ogni giorno, per cui è stato fatto, che è stato fatto, 3 mesi è venuto. Come lo sai ora. E poi, si è fatto, si è fatto, è una scena, è un po' di prima cosa che è stato fatto, . 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 io non ho tolto io allo spero di una bianza a tutti e non ho dicisi che ho spenderlo comunque io non ho cominciato per le cose che non ho spenderlo è irrelevante io non ho cosmo, non ho detto che io non ho capito, non ho capito non ho capito, non ho capito tre ore che non ho capito è fantastico è parte di un'experito di un cosmo per la bianza a tutti e non ho dicisi che ho spenderlo non ho capito, non ho capito in destinazione non ho capito fu un'iquino non ho capito, che non ho capito erano migrazato un cosmo non ho capito, sulla via un' passare nei niciodati è newson orage Edиту no, ma troppo troppo lo scerri alla pò stai la scena. No. No, dicono ma sono 3 punti. Ok. Cosa che mi asistico una scolionata, c'è stato un posto perché è stato uno scolieto. Lo scolieto ha per 3.000 metri. Però in realtà. Mi affinity è altamente. Ommo la verità è che andiamo fu quasi più vicomattati, erano vauti e sposte ruoste in questo sicurale, Il fatto che ha fatto la sua partita. Oggi sul termo e non lo so. E'olà lo stesso. E'olà dico che sono le due o tre volte non è piaciuto lo stesso tempo. Noi non sono mai lungo. E'olà la ruota è parata. E'olà quello che siamo più amici. Il peccato è che ciò che si chiama noi, si chiama il mondo, è una cosa più grande. e una fissia è così sai se oltitipo o peccato o per l'estitato o serviz se si è un'happy con qualcosa e poi vedi un'azionata e poi vedi un'azionata 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 e non è un'azionata e non è un'azionata e non è un'azionata e sei con la maggiore e qual è la sua e qual è la mia scezione e... polla è scezione maggiore eppone era mai era un'azionata o era un'azionata eppone era un'azionata era un'azionata eppone 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 che il mio padre aveva un'azionata eppone aveva il suo eppone maggiore eppone eppone che E' poi la mia amore, la mia amore e l'abbiamo. Ma provate a cercheriare, ma l'accompanciare, per cui è così. E' poi escezca. E poi metà vrei in inglesi sull'io? E' poi dovevo fare il carriere, e' poi l'accompanciare, e l'accompanciare, la prima del maggiore ero, e voleva la mangiunga. maggiore, 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 maggiore. Maggiore, 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 maggiore. Maggiore, maggiore, maggiore. E' come si è iniziato. E' come si è iniziato a vedere una fine che ha fatto prima 5 anni. Nè, è iniziato molto. Oggi è stato un po' di scopo. E' un po' di scopo. E' stato un po' di scopo. E' stato un po' di scopo. E' stato un po' di scopo. Abbiamo anche un po' di scopo. Faccio un po' di scopo. E' stato un po' di scopo. Io sono anche un po' di scopo. E' ce la mia piante è stata un po' di scopo. Questo non mi ha fatto per scopo. Per ciò che è stata un po' di scopo. maggiore che scrivano la bibliografia maggiungo inizio il clima di quanto funziona un'eva 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 un'eva, un'eva un'eva e ho avvenuto 3 fielli che sono maggiore, un'eva un'eva, 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 un'eva e un'eva, 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 un'eva ed è un'eva, 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 un'eva maggiore e all'eva. Un'eva un'eva, un'eva, un'eva un'eva, ho un'eva. Un'eva, non vuoi, il Stafford è un'eva, è un'eva, ci sono un'eva, ho assembly sono un'eva, sono un'eva, un'eva, una corsa e, poi, faccio una corsa. Un'eva, allora, si. ills, sono le ore, sono le 뻔anti. è stato un po' di più, è stato un po' di più, è stato un po' di più. Busé 1 stick 50, 10, 15 ore, una stagonica ore a tendency per cercare un super collegio Io non capisco, come ho capito, ma mi ha detto, se uno, due o tre, a fare tutto. Non lo faccio. La prima cosa che mi ha fatto, non lo faccio. Ora, puoi riusci a un'quiettale, che si lo faccio un'quiettale, che si lo faccio un'quiettale, che si lo faccio un'quiettale, ma ci si lo faccio un'quiettale, ma è tutto il fatto. Questo è il compagno, è il compagno, ma la compagno di un creazzo è più dry. Ci sono dei compagno che possono avere l'interno della l'impagno. Ci sono gli altri, gli altri, gli altri, gli altri, gli altri, gli altri, gli altri. Ma è anche un'ergo stasio. Non è anche un'ergo stasio plastica. Ci sono anche alcuni dei diversi. E poi sono gli altri. E' un'apparecchio. E' un'ergo stasio. Cosa sono? E' un'ergo stasio e siete uniti di un'ergo stasio. Già altri abbiamo hanno già ergo stasio. E' un'ergo stasio. E' un'ergo stasio. E' un'ergo stasio. Mi sono Andréas, andréas è stato in un'omata durante un'amici di tempo, con la Covid, e sono stato stato fatto in un'occhio il compagno del PrEP, quello che si è fatto con la preparazione, e in un'occhio, si è arrivato a un'occhio, 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 è molto buonissimo, e in un'occhio importante. è quello che ha detto a un compagno di squadra. N понятно che il business development necessario di pesciarsi in un'auto per dooudare, senza eserciare il nostro lavoro, è per di che il sol livello, dovuto cercare, perché è stato pieno di spaziar. N vale il tennis. Il giudice di più, dove è stato un programma, Un'episodio, una polla gnomorosa. Ocogena in hispania. Questa è una ognosa, è una ognosa, è una ognosa. Un'a spazio, un'argomento. Era un'archi chef, lo che era un' pastry chef. E un'a un'espazione, era più... Ma non era più... Ma era più, ma era più buon. nella cucina e in modo che mi hanno dato un messaggio, e in questo modo credo che sia più alexiomennoso... E' un'andrea, 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 un'alper. Bravo, è un'andrea più alexiomennoso per il mondo. Non mi sembrava che sia più alexiomennoso, non mi sembrava che sia più alexiomennoso. Adidas. Alla, ovviamente, si hai un bugger. Il tema di sianoche, di sianoche, di sianoche e di sianoche, di sianoche, di sianoche e di sianoche. Questa è un sogno. Non puoi essere, diciamo, che non puoi avessare, ma essere un sogno che si avessi. Perché non puoi essere stati. Ad esempio, se non puoi, se sui sianoche, di sianoche e di sianoche. con lo R&D o con la nuova piazza o non sei la parte del artista di lavoro, ma non sei la line la squadra, quando si è iniziato hai detto ora, hai detto 6 sorry, inizia erano due o tre inizia erano, inizia erano, inizia erano inizia erano, inizia erano, inizia erano erano, inizia erano, erano im tanto inizia erano erano, inizia erano, enizia erano erano, inizia erano, erano erano, inizia erano, noni altru. erano erano, ma penso oh,ans l supporting erano, e efforts erano, gente o buon II impression però abbiamo fatto 15 anni, ma sono stata molto. Sì, sono stata una metà. Quindi, così è stato successo. Si è successo, ovviamente, se si è successo, se si è successo, è stato un po' di più. E' stato un po' di più. E' un po' di più, diciamo, per i più grandi, difficolti di quanti sono stati, che ho fatto, anche se, o tu, maggiore, anche la mia squadra. Un'altra, una scena di difficoltà è il tuo cibo. e la proprietà. Questo è quello che mi piacevole. Non mi parlare di finanziare, per il business e il development, ma non si è un'azienda, non si è un'azienda. Ma non si è un'azienda, non si è un'azienda. Il tema del creato, quando mi ha fatto una risposta, io voglio avere tutto il mio piore e tutto quello che è. o per la macina o per la spara, o per l'accio in tecnici, o per la cibo o per l'accio, o per l'accio. Quindi, la prima volta che l'accio è l'accio, ho avuto la 5 diurati. La fa l'accio è l'accio, l'accio è l'accio. Quindi è l'accio, l'accio è l'accio, ma è un euro per fargliere anche due euro per farlo, per andare a fare più 2 kg per poi per la questa. Il stress e il stress e il stress, che non si trattava un compromiso, è la più grande e difficile. E inizia l'inizio, il problema è che voglio un po' di più, per la prima volta, per la prima volta, il problema è che il problema è che il problema è che il problema è che il problema. Ora è un grande problema. I'idea dicassie, a spune, è l'epilogio del crèato, generalmente, non solo del crèato, ma non solo del crèato, ma pensavo che c'è anche un challenge. I'idea dicassie, sono iniziare, senza l'epilogio del crèato, dopo l'attivazione del crèato, prima di arrivare al piatto, che è un'espirazione del crèato? Inoltre, inoltre, abbiamo iniziato a fare un po' di più, inoltre, abbiamo inoltre, 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 abbiamo inoltre, inoltre, abbiamo inoltre, 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 inoltre. inoltre, se וה CAMPE inoltre, inoltre, mettere's per la prima volta, la situazione è che ora mi parliamo di due o tre mesi per i due o tre mesi, per i due o tre mesi. Quindi, puoi dire che non so se 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 non so L'oggino, 3 mesi, oltre. O l'oggino, 3 mesi è il l'oggino, perché ogni 3 mesi lavoriamo con australizzica, americani e giapponesi. Chiaramente australizzica. In Black Angus proviamo ad avere Australia, Rangers Valley e Jack's Creek, che per me è top in Black Angus. In Black Angus, in Black Angus, in Black Angus è molto complicato, perché l'Europa ha qualche quota per la posizione dell'istrallizzica per l'istrallizzica dell'istrallizzica. Oggi per l'istrallizzica, ma per l'istrallizzica ma per l'istrallizzica. Oggi, quando si arrivi alla quota, non hai altro lavoro. Torni in 3 mesi, per l'istrallizzare il trading. Oggi, non posso capire, se ricordi, se ricordi. Oggi, allora, 300 kg diash, poi i Rangers, non posso capire. Oggi, l'istrallizzica, non posso capire. Non posso capire. Oggi, che per l'istrallizzica è una volta. Oggi, come per l'istrallizzica, ma per l'istrallizzica, ma per l'istrallizzica è una volta. Oggi, non è così, è così, non è così, è così, è così. Siamo più lungo, che ci siano il mondo? Abbiamo due maggior categorie, con il Placangos e il Vagio, che razziscono il zone. Alla, abbiamo visto il cosmo, facciamo il livello, facciamo il livello, trontano il livello. È un'occhio importante, un'occhio. Esa c'è un blog, ho la richiesta di settimana. Nessone di potenza erano anche per la risa delle bellezza. Buon partecipato della categoria di sviluppo. Per esempio, che hanno fatto una cattiva della ricetta. E le donne che hanno fatto una cattiva perché è molto molto gratis. Per tutte, per tutti i suoi impietti che si avete fatto gli alimenti. in piazzare il bianco la più giovane cattività di bianco la quale nella scena del 80 è stata una scena di bianco se si sono un altro che si è più grande è un giudice che è un giudice che si scrive un giudice un giudice un giudice come si è un giudice come il giudice gli giapponese E così lo conosce. È un'intera della storia di una finanza. Ci sono un'intera della storia di più. Non c'è una storia di più. La storia di più nella storia è che il 90% non significa nulla. Oggi, come in 80, chi ha avuto un blacangus, ora è difficile da lavorare a un blacangus o da fare un farmabla con un blacangus su tutto il mondo. anche in Cipro si fa questo problema quindi la differenza è davvero ma è una qualità e un'qualità e un'qualità e un'qualità quindi con un'high-qualità è un'qualità è un'qualità è un'qualità il mio è un'qualità che è un'qualità che c'è un'unico che c'è un'unico che c'è un'unico è un'unico che c'è un'unico perché non lo vengono non lo vengono ma la città è un'unico che c'è un'unico che c'è un'unico il loro quindi è una città chi è un'uno che c'è un'unico che c'è un'unico che c'è un'unico che si chiama però il l'unico e un'unico che c'è un'unico e perché i appogliano in bandù agio, in cui andiamo con le regioni, come in Italia, in Bordeaux, in un'grazia, in un'grazia, è un'esplosione, che le regioni ha avuto in un'esplosione, in un'esplosione, in un'esplosione, in un'esplosione, in un'esplosione, in un'esplosione, gli appogliano in Krak мар play cinema, in un'esplosione, i appogliano in Krak, i appogliano in Bordeaux, le regioni i castigli, che è in un'esplosione, che è in un'esplosione che invece appogliano, che i stessi con i appogliano in Krak, c'e hanno un'esplosione che attraverso il mondo. e si ha fatto un regoletto il fatto che 5.000 giveranno aluma il corsoico, non ci vengono altri. oppure stambarano a spurti. Oggi ha fatto un contracto in concreto. C'è un progetto che ci sono stati più conosciuti in cui ci sono stati più conosciuti. Ovviamente c'è un'elevator di timido e poi c'è un'demand supply. E' un'empiria che è un'empiria. Alla c'è un'elevator di timido e poi c'è un'demand supply. Alla c'è un'esercito che si sia un'esercito che fatta l'empiria che c'è un'esercito che si dice che si non lo fanno. Anche un'esercito. Che c'è un'empiria che si può prendere un'esercito. Ma il fine è un'esercito. Ma il fine è un'esercito che non lo so. Alla c'è un'esercito che non vuole un'esercito di un'esercito. C'è un proiettivo che io voglio fare una scopera in Cipro. È un pozzo di tempo per farlo. È un prestigio. 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 Alla prossima. Isla stigio. Sulla stella stessa, è un prestigio. Questa è una scopera. Perché io voglio fare una scopera in questi casi. in tele il Gimpio. per il resto delle 7 all'inizio che si è inizionato 25 euro e si è inizionato la prima cosa non è inizionato sicuramente il nostro che non è un po' sono arrivato inizionato inizionato che si vuole un po' Il caso di Bibi è prezzi di fare, magari tu lo hai? Fatti non ti piace, però non lo hai? Il perso si la bambini si può essere giocato. Perоду di 100 mesi, per farmbano 250, per farmbano 250. È tutto il lavoro. Fatti là c'è? Fatti, bene. Fatti con il progetto l'amico. Perché non ha necessario se cobrata con il peccato. C'è un tipo, fà tutto tutto, perché trò il συγκεκριμέno, il sindicato, staizi, 270 mesi, grazie, staizi, citaro, bulla, enjoy. Il peccato, è un po' di più, 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 è un po' di più. E' l'ataica. Vite, c'è un po' di più, questo è un po' di più, è un po' di più, è Bongani, in economia, in aliens, era un po' di più. del stesso tipo, il blagangus, ma il blagonics, il brand, lo sopravvano. Si, non, non la parliamo, ma è un po' più complessi. E' 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 un po' più progettion. E' un po' più progettion. Mora, questa è una cosa che dice. Ciao, questo è un po' più problemana. creato a tre arco di potenza di non parla tutto è in treze da fuori degli miei e ho messo in ribello e quello che ho detto tutto è in teore la qualità di più di più che sono in questo giusto è in questo giusto più di più o altro. La differenza è quella del schermo che ovviamente il filetto è un muscle che è un muscle che è più stronti e ci sono le qualità che molti creano che questo è un stake per molti il fanatico il filetto. Entrano che il tenderlo è che viene dopo? Nè, nel tenderlo è o l'occurso come noi abbiamo un vacuum che viene che viene che viene da 250 g steg ora vediamo che in black angus sono che non c'è tanto ma è che è in 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 are there people are so that they came to A noi ci sono stati sottotitoli, si sono stati sottotitoli, si sono stati sottotitoli, si sono stati sottotitoli, a noi ci sono stati sottotitoli, avvistano a noi, perché non era stato standard per andare su piatto. Anche le stagioni sono stati sottotitoli, ma il problema è che la cattoletta si non è arrivato a noi è stato un altro anno. Perchè, è stato un� license. Nessimura. Si è stato un néo, È stato un poigno, però è stato un poigno che fare un poigno e non gli piace, è stato un poigno di farlo e non gli avvicinano, invece non si è lì. Quindi, no, non vorrà. me sosta c'è una bio di mato stecchino sotto in fretta le cangine bollare all'angelo festo filletto e ne fai sto riparito guaglio a poter riparerlo di calo alla migliorare e nulla ora raggendo filletto un panda di olio quando mi zinto combattuto in giro è troppo migliore viene di questo e vor ride ima che sono il braio. Io di nuovo, hai visto? e come si provo, è verità più il cowboy e il maomo che è verità più il maomo è un giusto, ma che è accultato ovviamente chiama con il coccallo, è una extra gizejifcama sul portico, è verità più di ciò come il coccallo è verità quindi, tipo, lo restate? ecco, lo restate in giro? ecco, lo restate in giro? quindi da fare tipo smith. Chiede lì un'handling, non è più progettivo, però se si è sostenibile è un trick, se si è sostenibile, se si è sostenibile e se si è sostenibile sicuramente 700 700 700 è un po' migliore si è sostenibile si è sostenibile per 850, 950, 1000 e se si è un' sostenibile un'esplice, non è un'esplice, non è un'esplice, che è un'esplice e soprattutto in cui è un'esplice con il compagno con il compagno e con il compagno con l'Italiano per fare un'esplice l'Emp掰掰 era un'esplice era un'esplice e c'erano un'esplice e si spiegli un'esplice gli effetti Girolekti era un'esplice era un'esplice e poi e poi avcciò quindi sono in un'occhiata in un'occhiata, ma non è così, ma è un'occhiata in un'occhiata che si è sopravvano a dire ora abbiamo la domanda di milion di dollari di question il topissimo, il danno e non ho potuto prosegare queste esforze e ho chiamato che ho capito, che ho capito una cosa che ho capito, che ho capito, che ho capito, che ho capito, che ho capito Perché ho fatto un po' di più reale. Che ci sono molto assoluto? Plaggios. Plaggios. È un po' di più. È un po' di più. È un po' di più. E poi mi ha fatto un po' di più. Non mi ha fatto un po' di più reale. Ma non mi ha fatto un po' di più. Prima di capire, perché ho fatto un po' di più. Ho 보�ne. Θabbi che ti è un po' di più. Perciò che ci sono un po' di più. Credo che ci sono un po' di più. Perciò che hanno bisogno di una scena e l' sixth. E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più. La storia è un po' di più. L' confianza. Credo che è stato troppo. Perché bisogna avere un po' di più. Forse un problema è il perito. è un pocchi mellico quello che sia il suo seno è un pocchi mellico perché non è un pocchi mellico se non è stato超ata se ci si mi voleva e ci si qui voleva o se qu voleva allora avevo un carno di 33% di volta o di circa 33% di raro in cui abbiamo si è un po' 20 stakes in the well done significa che per altri luoghi potrò il well done un'aztropo, molto probabilmente. Nè. Ora, se ci sono dei campi che ci spazano un'accionata, è un'accionata. Oso più lì ci parano, è un'accionata, ci si può andare a far più di più di più. Perché è una luce di più? O, è una luce di più? No, e che è che è una luce. E' un'accionata, di è un'accionata. E' un'accionata, di è un'accionata, di è un'accionata, di è un'accionata, di è un'accionata. Il più sostenibile è la terremocrazia, la esoterica. Oggi, la prima di cui mi parla è la terremocrazia, la terremocrazia è la terremocrazia, che si fa, 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 che fa, perché il lupo, in realtà, in realtà, in realtà, è un'evegliato. è molto più importante, come i filetti, non è molto più importante, ma non è molto importante, non è un massimo di marlino, ma è un pollo di flore, è un pollo di limo, come è un pollo di limo, e vabbiamo molto molto, tanto se fanno un pollo di limo, non ti fanno un pollo, non è un pollo di limo, il marpling, il tartare, ma è stato più extrema, ommo, che è 10-15, e uno che è well done, che è più 60-2, credo che i compagni che ci sono più medium, non sono ancora più compagni. Per questo è il mondo che chiede a uscire a uscire il esteratore, progettiamo a uscire il rebuy. Perché è stato lì? Il termo crassi, se è stato lì, e poi si è già in un modo più old school e poi si chiama il termometro e poi si chiama il termometro e poi si chiama il termometro O papà mi ha detto che era il termometro per favorevo il termometro e non ci fosse il termometro e questo è stato real e questo è il termometro che è un termometro che è iniziato che è iniziato come iniziato Sfingghi. Sfingghi, come si. La prima volta che avessero il termo. Se è stato il trial periodo di soltere. E' stato un caso soltere. E' stato un po' empatia. E' stato un po' sottile. e che ci sono un'esplice e la stessa e la consistenza. Fannoci bene, non è un punto di rinforzo, ma dovrei essere consistente. Se volete fare metriosi sui piotetà, vieni a sempre metriosi. Se volete fare top, volete sempre top. Non è vero, 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 non è vero. più altra esterno. Oggi è molto sessantico. Oggi non è stato consistente ho trovato il termometro. Prova che in un ambiente molto pesante bisogna metterci 10 volte. Anche se sessi dei giorni, non è giusto la seconda vita. Prova che non vengono ma non è reale. Non c'è una carta come tutto come tutto che c'è il termometro c'è un termometro e c'è un termometro più nel termometro con i lavoratori che c'è un termometro come un termometro ma si il termometro Se vuole un contratto. Mazzerci. Se vuole un contratto, le sales vogliono per la pagare. Se vuole un'esplice. Se vuole un'esplice, se vuole un'esplice, se vuole un'esplice, se vuole un'esplice. Nel resting period, se vuole un'esplice, si vuole un equilibrio, non si vuole un'esplice. Non si vuole un'esplice, si vuole un'esplice visite un'esplice. Era un'esplice. Un'esplice. Loizé un'esplice o bar heads. Un'esplice si vuole un'esplice e muy importante. Si se vuole un'esplice sa puole un'esplice si vuole un'esplice il acavènes un'esplice di afforato non lo copsi dopo 5-4 letti. Parlando se arriva, non è molto semplice di afforato. Se non è un po' aggiu tutto, non è molto libero. È molto semplice di afforato. È un po' di afforato sicuramente, ma è molto semplice di afforato, se non si passa una flap stick. Quindi, in termini, la termografia è stata un po' di spiro, che avevo un po' di beef, che non è un po' di più grande. quando lo sfoggiate, ad esempio, 10 kg di coltere, puoi fare 30 ore, 1 ore rest e non potete. O non lo spiegate, non si volete, non lo spiegate. 5 ore se lo sfoggiate, non lo spiegate, non lo spiegate. Il riscate, ho già doccionato, perché la prima volta, scad� a tutti gli altri, e il riscato in quanto si può fare, la prima volta è completamente garantita, non lo solle. Oltretutto la prima volta è stato un po' metodo. Oltretutto. Oltretutto. Perché hai diversi massos. Poi c'erano molti metodi. Poi c'erano il resto del periodo. Poi c'erano il smoker? C'erano in grigia? C'erano in grigia. C'erano il smoke box. C'erano l'offset? C'erano in grigia. C'erano 4 ore. C'erano un po' ezzis. C'erano molto sceevasci. Se da un po' ezzis... Ok, vuoi un altro sceevasci, vuoi un altro trail. Vuoi un po' ezzisci. Ci sono alcuni. C'erano. Poi ezzis. Acquilla erano passterami, che avevamo in grigia della stagione, con lo usare gli muscoli. Applausi per 10 mesi brine e poi capnizzate. Injected in brine? Injected in brine? Eppici facciamo equilibrium brine. Equilibrium brine, facciamo un percentage salinity su brine, però facciamo tutto chiaro. Voi mettere il brisket, in modo da facciamo brine, si lo sanno, e poi facciamo ilcolo vero, per non è il brine, facciamo il percentile salinity, un po' el been di 100% l'alate può fare dal 2% qui facciamo il carburium brine, e poi facciamo il brine e' giochi in sequinole. Oggi c'è ci si e' questo tipo, perché l'alate tiene la riletta insolvipi sui, se si non lo sassi, ma liquezza nel cibo, perché vuoltre vuoltre 2% se vuoltre 2% nel cibo e nel cibo è 2% quindi è più di più, perché vuoltre 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 e come si trova nel cibo, vuoltre 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 ma vuoltre 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 Se vuole 10 mesi, se vuole 10 mesi, se vuole 10 mesi. E tutto ciò che vuole inizia le risposte, vuole una cosa più specifica metriks? No, ma se vuole il clippo è molto facile, perché se vuole il salinity level, è un matter of time. C'è un trattamento, se vuole un pinc salt, non ho il Himalaya, ma il pinc salt. E' un pinc salt, il pinc salt, il quale è un rossi, per questo che si vuole un pinclus. E' un rossi. E' un rossi. E' un rossi. Si vuole un pinclus, il Natale e l'Aporia di Cipri. Perché... Ah, non ho scoperto. Mi hai detto perché. Perché abbiamo detto che abbiamo detto prima. Lo abbiamo detto. È un po' più difficile. È un po' più difficile. Non è un po' più difficile. Non è un po' più difficile. E' un po' più difficile. Perché il medio rare, in particolare, in Cipro, in cui siamo noi, in cui mi piaceva il Cipro e il Cipro e il Cipro, hanno sottile la visione. Il mondo si è passato. Ma il medio rare, il mio modo, è un'altra visione. Per la thermocrazia E poi a questo punto mi ha detto che voglio il medium real e lo intendo proprio il medium E quindi voglio il medium real e lo intendo proprio il medium Per quanto riguarda il medium real Non è un ecco stato Ecco il che c'era la levesse, per esempio che non si la fraccia si tracati il simbacismo. Ora, se lo fiume, quando si cuori tutto blu, che è ancora più grande, però non so per me è piuttosto che non si lo fiume, non si è un problema, quindi non è un soggettivo, maistes un soggettivo, non è un soggettivo, non è un soggettivo. Inoltre, fraccia il significa e molto buonissimo. ora è ciò molto difficile ora è tutto difficile ora è tutto quello che dice chi è che chi si chi mi permette il tuo nome è che mi permette io per esempio se ti pari io non ho un'impistosione io voglio il tuo tipo se ti pari se ti pari se non ho un'impistosione non ho un'impistosione perché non ho un'impistosione lo voglio che la giugno per la giugno Quindi non lo fa più... E' molto buon paura. E' molto buona, ne... E' un po' più ok. E' un po' più... E' un po' più... E' un po' più... Quindi, questo è una medio. Ma è un po' più... E' un po' più... E' un po' più... E questo andavamo a poco ok, e fare il risultato. Quindi, il risultato, per esempio, è di riposo. Se metà un peggio di più di oddio, da fare il risultato di di più. Ma avviste, il risultato il risultato di più. di man, è stato un po' di man. Spero che non si stai mai sottile, non è una piousness. N'arriva in grillo, la foglia è giunata e non è giustamente. Si riuscano da parte, e si stai un po' di man. È molto importante, è stato un po' di man. È molto importante, è stato un po' di man. È un po' di man. Perché è un po' di man. È un po' di man. Un po' di man. E' un po' di man. E' un po' di man. E' un po' di man. e funziona magicamente, quindi per l'Aspagna è un'artistica piso, perché la stessa piso è diventata medio-well e si può fare medio-well, perché abbiamo tutto questo medio e poi hanno un'optica problematica durante 10 ore ore, quindi un'artistica piso è diventata Tutto metodo, metodo psissimo, in alcune volte ho capito che ho molto interessato perché c'è il plasma che si trova il migliore che si trova il migliore non so, ho conosciuto ma di più grande, più grande, più grande e il mio mamma trova il migliore una volta dice, fa il migliore che sono arrivato a quelle protezione dai che hanno scoleduto e qui hanno chiamato lo cattario indietro le misure scopoldo in questo momento non è rimasto non è dire che il corso sitherque in the medium well, in the rare, in the well done, ma in man, in polla line, in polla line, in polla line, in polla line, di afferro di il plasma dove io ho parlato di affouretica. E che si è successo. Si sono, ma in po' di trovare medium well, e in po' di trovare medium rare, sub rare. Cosa creano, in piotetano, in piotetano, o se è in cui in cipro è una high standard e non sa se che in piotetano. E, guarda, il più importante è che il piotetano è un'argezza, 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 «L'osso mio è il mio amore oppure la questione, ma era poverso il primo e la scuola, eu sei, in particolare o non ho detto. È il mio amore, e lei non tratta, ma io non senti sempre. E quindi non mi piaceva. Quindi ad un amore, è molto amore. Non si sono in grado. Perchè deve fare il suo amore. Perchè la questione è ovunque, però l'imposte. Un'ogeno idea che per me è rischiava. Il mio papà mi mi ha detto che è un po' di trattare o qualsiasi. Non però sai cosa vuoi fare. Ma anche per la creazione. Ma anche per la creazione. Ma anche per la creazione è più forte. Ma anche per la creazione è più forte. Ma anche per la creazione è più forte. Ma non è fiume bene, non è sottile e non è giusto. E non lo farai, non lo farai, non lo farai. In 45 gradi. E' solo sicuro. E' safe solo, se siano già chiudere. Ora, c'è tutto l'idea, che il cosmo non può essere in sicurezza. E' un esempio che non lo faccio. C'è un cosmo che è arrivato già a me. È arrivato già a me. E' arrivato già a me. E' arrivato già a me. C'è una scala che non lo faccio. E' arrivato già a me. Lo lo faccio. Minutati è sempre a me. Me c'è un servizofo. Fittore che ritroviamo con l'impe le varie. E'为什么 a me incontra. E' diventato come gli autos, come gli fanno come gli app. Come gli acconti. E' visto, come gli autos, non lo faccio. E' la contra sempre. E' la mia incontrazione e' la contravo. perché non è un pochettino. Nè, come stia l'occhio, è certo, in qualche modo, ogni volta che scrive su un'esercizio che un'esercizio, non servirebbe sul mio video. In qualche modo, se lo scrive su un'esercizio, è certo, non lo scrive su un'esercizio o non lo scrive su un'esercizio. E' un'esercizio, è un'esercizio. E' un'esercizio. Quindi, stai l'esercizio, perché ho un'esercizio che andai dell'esercizio dai due fasi al cuore e nemet la голu слезa di i loro serei all singe. È un'esercizio il modo? - È un'esercizio. Ilfilter È un'eserciziori Perché in altri altri, come si sono più raro, io ho trovo un filetto rare, e il questo uno è un filetto rare, ma è un'acqua, quindi io lo doggio, quindi io lo doggio è un'acqua, perché io lo doggio è un'acqua, perché io lo doggio, ma io lo doggio, io lo doggio, quindi io lo doggio, io lo doggio, io lo doggio, e quando gli ho distinto la stagione, io lo doggio, non lo doggio più, ma l'acqua è molto più importante. Ma non mi pari il servitorio, ma non mi pari che sa che non lo so, ma non lo so, ma non lo so. Ma è molto importante, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so. Ma testi mesi. Alla c'è un'aggressive. Emo stiamo in molti stessi. 5 stessi non ho. E' un'aggressive. E' un'aggressive. E' un'aggressive. E' un'aggressive. E' un'aggressive. E' un'aggressive. E' un'aggressive, e' un'aggressive. E' un'aggressive. Vi laszerì di averli tu subservire. T'cawarene le livre. Y si puicere assicigio. Ma adesso anche. Presti riusciti? Soro? Moses, il Jasmine è si è solo. E' un'aggressive. Il mio caso a questo giorno è che l'oggiamento, l'oggiamento che si parla di un paese di una luce di 2 kg. È quello che si parla di un po' azzardo, è che lo prendiamo. Ma il modo che si parla, è che si parla in una strada, anche se si parla di un po' azzardo, ma la sua un'oggiocciata, la sua un'oggiocciata, quindi è un'oggiocciata. E' un'oggiocciata per un po' azzardo, non ci parla di una scuola, ma è un'oggiocciata, ma non è un'oggiocciata, è un altro tipo di tricciolo, ma io sono Christo e sono soltent fire ho provato a prendere i soldi, per farlo, per farlo, per farlo, per farlo e per farlo. Per farlo un po' di 2,5 kg e per farlo. Per farlo un po' di più. Non è un po' di più, non è un po' di più, non è un po' di più. È un po' di più. C'è un po' di più, da un po' di più, però lo girovato è molto simile a quello, ma un po' di più, è uno ovo. Non è undo di più, è un po' di più. Ci spostè? Alla prossima. Come molti. e poi vai posa in buba e poi questo... Io in Black Monix ora faccio un pinta del cerebro, trago sapiente a Gran Mari. E no, e a tuo menù? No, no, e a tuo menù. Pinta del cerebro? Tutto? Tutto non è saranno da brocazi a Gras Mari. Adesso non è il crimine, non è il catonico, si è tutto... Posa sapiente, trago sapiente a Gran Mari. No. E' un... In costolo, e' un... Che usi paragono di... Non è per il ventino. Ho hai mai teme, questi dia... Non è scrivo. Non è scrivo, non è il ventino. Andro! Ci usi paragono di ci sta fondando sul costolo? Di tutto ciò che costano, Se avessi così. Si avevi un posto di costo. Si avevi un posto di costo di costo... Ci faci vendendo qui le entrega di costo di costo di costo di costo di costo di costo? Forse si è avessi il costo di 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 costo. che sono stati sottotitmologi, ma è un'acrimento. Adesso, se non è un filetto, è un'60 euro o 70 euro dopo kg. Adesso ho avuto 70 euro dopo kg vacuum shield, è un'accatharisto, senza farlo delle mesi. Se mi ha scolizzato con polla crieva creata, il costo spazza di molto. Per esempio, la scocola che stava in un'acquietta, e stieghi 35€ che ha messo il saccullo ma quando si lo puoi, lo scurge è scurge e stieghi una scurge e stessa la scurge la scurge per 20€ quindi ha fatto un costo, un costo, un costo, un costo è stato un costo perché ha fatto un costo il campo si è stato un costo ha fatto un costo un'espo che in attacco alla fine con un'espo di fare il costo per un'espo di millions di risoluzione. Fic irgendwie delle caratteristiche che inазifiche, si vedete attaccherci le tue tue quelle che si vende di perspetta Abbandoniamo un piatto, ma non esplosso il pereno che si è la delle caratteristiche. Ora, con contesti all'espo di servizioni, la loro cattorie all'espo di fare più le coste, sposte l'espo di 15% il ris exposte, rispondono di poter vedere la fine di me. Il lavoro di costo. Il lavoro di costo. E poi si lo mettiamo, il lavoro di costo di costo di sales, e quindi lo riposo, l'unico e quindi o è tutto il lavoro. Se non può fare qualcosa perché è la nostra atmosfera. Non è uno che non lo scrivete, ma potrebbe fare qualche rollo in un'overall experience, perché è un'esperienza di 200% in una regione dove sei. E' un'unico. Né. 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 è l'aposte che facciano, come un'estiazione, io voglio che voglio avere un margine quello che è in questo senso e è molto simbatico, è una cosa che è in questo senso quindi in base a una salata non è l'unico margine con un compagno che stichisce 300 euro Kilo o sono bai spano tu marchi su pefti 6% Tutto il discolo me lo soltanto Fai erano di un lato da Pramata In bollacri va E non è una estatura di un doppio Nessun analista che ci saranno da Pramata Vorrei to marchi In tutta bollacri va Non bollacami E c'è una cipolla psilomarchi Basta bollacami E i pari di mangiare un altro Poi un po' di 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 un po' E' un po' di 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 un quando si è ritornoi, 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 la miglioramento di ritornoi è di tutto. Non è l'unico che vittorno del vento e ti capnisce solo con il cappno, quindi si è ritorno, ma è un po' di megalo, ma quando ti capnisce ancora le creierette, si è ritorno. Un'epilogia è che ha pubblicato molte ore, ma ha pubblicato anche la longevity in cui si trova. E' un'epilogia più felice ed è diargete ma dopo la partenza. E' un'epilogia molto grande, in cui si trova lombita, che fa in cui si trova lombita, e' un'epilogia molto grande, ma è un'epilogia molto lungivo, ma non è un'epilogia. e facavano le problemi con quello che va a rischiare, ma c'è un mix of the two, ma è di circa 80%. E' stato sempre fatto con l'estera? No, era sempre fatto con l'estera. E' stato fatto? Non, era attimo al concepto dell'estera, la filosofia. Il motivo che è stato fatto è che il bambasco è stato fatto da una piscina con il bambasco e abbiamo fatto un grill con il bambino, dove lavorava con il bambino. Quindi, è stato un concetto. E' stato un concetto, perché abbiamo deciso di fare un steak, dove lavoravamo anche le tessere tecniche di lavoro, con la tigana, la cazina, la cazina, la cazina, il sacco, il bianco. Abbiamo il prodotto e non ho fatto rimane, ma non lo tolamo solo. Hai una terafattia indietro nella cazina? Non hai una terafattia indietro. Con il grill? Con un gas grill. Nè. Non hai una terafattia indietro, non hai sempre o l'accio. E' stato che, se avete nel retail, la cazina che abbiamo in una cazina, in nuca, progete il mondo che si vede in questo campo che si vede un po' di rangeres valley e in black onyx, ripi, che si vede un po' di rangeres valley e in black onyx ripi, che si vede un po' di 350 g, che si vede un po' di più, che si vede un po' di più. E per questo mi scrive anche dei farmers in questo menu, se lo vede anche, e non è un po' di nuovo che si vede molto bene e per questo che ci ho parlato è che avevo fatto per la ragione ero, gli ho detto che avevo fatto con questo e ti non sono perché wille un po' di chiama che ci viene, che ci viene e che ci viene da un po' di rangeres valley e che ci viene da un po' di più ma 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 un po' di più E' sicuramente un'euro a fare il caso, ma potrebbe avere una volta, dopo 3 minuti, ma tutto quello che mi ha detto è che il ruolo. Il ruolo è quello che ha fatto, che ci sono un'xito, che c'è una scelta, che si fa una scelta, che si è un'infarna che si è un'infarto. E' anche un'esperienza. E' anche un'esperienza. Lo es patrottut la risposta. No. No. Lo es patrottutor. E'vanno anche la scolta. La scolta del scolta. Lo es patrottere il scolta di un tante fai. Si siano tuttavia, Si siano molto consolato. e da marchio suprano in particolare il modo che ti avvicini. Non puoi fare l'accusa, non puoi fare l'accusa. E' nulla. Ma sembra che è nulla più accedibile. Alla, vedi la domanda, la domanda, il più accedibile, il più accedibile, il più accedibile, il più accedibile, il più accedibile. Ovviamente è nulla accedibile. In qualità mi ha fatto una domanda. In realtà c'è un po' controllo, alcuni azze alzare in calzare da 40 còdici e ci si avvicini a mandare da fare. E vedi una espessa di stately che in quella delle nostre pizze. E poi vai per fare le nostre pizze, e non dovrei ad fare le nostre pizze. Ci sono intenzionali di questa domanda in questo caso. E ci sono questi libri di questa domanda. Salina? Acevità. 20 gram, 12 gram, 4 lire. Il costo è 0, non close to zero. Ma è un po' 100 grammi di stagione. E' un po' 1 site, perché puoi fare anche molti sondriamo? Puoi fare anche i sondriamo, puoi fare anche i 10 sites, e' un po' 1, e' un po' 1, e' un po' 1, e' un po' 1. E' un po' 1 cost. Sting. Ego, nolizzo, ha calzato in polla ora i temati. Nolizzo che non lo facciamo, non lo facciamo in basa, per il secondo volume 2. E' la verità, non puoi stasciare. Nolizzo, non puoi stasciare. Nolizzo, calzato in qualche volta più operazioni. Nolizzo, è un'altra parte del sistema, ma non puoi stasciare, ma è un'altra parte di solito. È un'altra parte del nostro corso di solito. Ma è la parte del settore di solito e la parte del solito, è un'altra parte di solito che si non puoi. Ma è un'altra parte di solito. Il problema è il momento, il challenge più avanti. Voi sicuro. E' ok, lo persone ha sottoscato, ma è bella un'altra parte di solito, per farlo, per vedere se si è iniziato un'estilazione, o di un'estilazione, o di un'estilazione. E credo che il mondo è interessante che non è una plana di poter fare una pietta di sviluppo e da città. Eccine hanno delle challenge. Eccine hanno delle challenge. Sicuramente, erano alcuni tipi che avevo avuto questo podcast. Non si parere di qualche... ...di qualche cosa che potrebbe credere un tabù. O qualche cosa non si può discutere in un'annunità. O che non sia un'attra stricte... Non è un'attra politica. Non è un'attra scientifica. E' un'attra un'attra un'attra. Non è un'attra. Abbiamo fatto qualcosa di next step, per gli stiaitori? In realtà, next step. Il Shorterfest, in Cipro, mi rimane in Cipro. E' stato un progetto in Cipro. E' stato un progetto in Cipro. Allora, hopefully, nel momento che è un nuovo episodio, non è un obvio. quindi abbiamo polla idea, per lo vediamo in futuro. Chiaro in Kipro. Interessante. Ma lo perimèrere. È un calo cheirino sporo. Ma l'è? 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 Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.